Salve a tutti ragazzi, sono Piazza, bentornati nel mio canale ragazzi, come vi avevo detto il video è uscito poco dopo il mio Roll2Max Nuovo sneak peek molto importante, partiamo subito dalle cose che a me non interessano però è giusto annunciare Il TH11 ragazzi avrà delle novità molto importanti, avrà addirittura delle difese in più, avrà un cannone in più, una torre dell'arciere in più e pensate un po' una torre dello stregone e un arco X Ci sarà un arco X in più ragazzi, come cazzo facciamo a fermare questi TH11? Io ancora non lo so Qui infatti adesso vedremo un attimino tutte le difese che il TH11 avrà disponibili, fa paura solo a guardarle Sono così tante che a me fa paura solo a guardarle, davvero Pensate se un giorno riusciremo a beccare un TH11 del tutto, ma che santo che li beccheremo subito perché i grossi gemmeranno tutto Io non so più cosa fare, cioè spero di non beccarmene mai uno contro perché altrimenti mi prende e mi distrugge tutte le cose che ho Ragazzi la cosa che interessa a me è che finalmente il TH9 avrà la pozione di gelo Questo vuol dire che potrei provare ad attaccare alcuni TH10, sarà solo a livello 1 ma va benissimo, mi va benissimo a livello 1 Perché io che scalo a titano, comunque per le sgherri, la pozione di congelamento livello 1 per il mio TH è perfetta Sono molto contento inoltre ragazzi, metto piazza, ma guarda che metteranno tutto a una gemma per Natale Quindi le caserme, le incantesime, quindi ragazzi noi a Natale si festeggia, si parma tutto, si parma Si scala tutte le feste e si va su a titano, mi sa che giocano molto sotto quel periodo anche perché non ho troppi impegni Mi sa che lo farò, tutta una gemma si va su come dei dannati Ragazzi il second pic molto breve, spero comunque vi sia piaciuto, ricordatevi che alle 12, alle 14 scusate E' uscito il mio road to max, quello è il video principale, questo qui è un video un attimino di rinfrescamento per notizie Io vi saluto e vi ringrazio, lasciate un mi piace perché questo qui è molto importante per la scalata ragazzi La gelo è molto importante, da piazza è tutto, un saluto e ciao!